In Serie B però c'è chi in crisi ci è sprofondato davvero e non da ora. Il Catani abbattuto dall'Entella sembra una squadra alla deriva con la classifica che ogni settimana scotta di più. Il popolo rossazzurro non vede soluzioni e semmai registra l'ennesimo segnale di confusione a livello gestionale. Basti pensare che dopo aver deciso per il ritiro forzato in vista della prossima fondamentale partita interna con l'Avellino la società ha fatto marcia indietro annullando tutto e rimandando a casa i giocatori. A dieci giornate dalla fine c'è ancora il tempo per raddrizzare la situazione ma bisogna fare in fretta.